Il giornalista e ex Geffino è ospite allo zoo di Radio 105.Alcune ore fa Alessandro Cecchi Paone è stato ospite nella trasmissione radiofonica allo zoo di 105 Il professore universitario che alcune settimane fa, è stato un concorrente del grande fratello VIP3, si è prestato a un simpatico siparietto con i conduttori Inoltre ha fatto una confessione sulla sua sfera intima Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo Alessandro Cecchi Paone fa una confessione intima.Ospite a Radio 105 nella grande squadra dello zoo, Alessandro Cecchi Paone si è reso complice di uno skate insieme al famoso VJ Squalo Quest'ultimo senza nessun pudore si è abbassato i pantaloni, e gli slip davanti il giornalista Da alcuni anni e io dici asterisco 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 e ne vedo parecchi.Ha dichiarato l'ex concorrente del grande fratello VIP3 Ricordiamo che alcuni anni fa il professore universitario e conduttore televisivo ha confessato di essere omosessuale? Durante il siparietto messo in cena a Radio 105, l'uomo è stato chiamato ad analizzare l'apparato genitale del conduttore radiofonico Ovviamente la scena ha divertito tutti e anche i radioascoltatori. Cecchi Paone, inoltre, ha confessato che tra due settimane tornerà allo zoo per parlare ancora una volta di sesso